Il 25 novembre 2019 sarà celebrata la giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne, un'occasione importantissima per cercare di capire ancora più da vicino le problematiche legate alla tematica. Il Comune di Bitonto ha ritenuto importante celebrarla attraverso una tre giorni di eventi culturali e attività formative, con un reading teatrale il 25 novembre nella Sala degli Specchi, con un'opera teatrale il 29 novembre e con un convegno il 30, entrambi al Teatro Traetta. Tre eventi l'uno diverso dall'altro ma tutti concatenati attraverso il fil rouge della sensibilizzazione sullo ruolo della donna e come questo è cambiato nel corso del tempo. È un tema importantissimo perché la donna deve essere vista sotto varie sfaccettature. È vero che il 25 viene ricordata la violenza contro le donne ma in realtà dobbiamo vedere la donna sotto altri aspetti. Noi come amministrazione comunale siamo sempre molto sensibili a questo tema, abbiamo organizzato degli eventi comunali, iniziamo con un corteo il 25 mattina dove ci sarà la partecipazione di tutte le scuole di ordine e grado, ovviamente per chi ha aderito a questa iniziativa, saremo circa un mille partecipanti tra alunni e associazioni del territorio. Poi ci saranno altri tre eventi con tre associazioni del territorio diversi tra di loro, abbiamo sia la FIDAPA con un reading teatrale, la FIDAPA va in scena contro la violenza sulle donne, poi abbiamo l'associazione AIMA, raccontiamoci con uno spettacolo teatrale e poi concludiamo con un evento donne in carriera, un evento un po' diverso, questo più che altro è stato voluto da me come assessore perché la donna deve essere vista non solo la figura della donna in queste giornate, non deve essere vista solamente come una violenza fisica, una violenza psicologica, ma deve essere vista anche come la donna è evoluta, la donna in carriera, la donna che si è fatta a strada e quindi ho voluto fortemente questo evento, ci saranno 4-5 donne che presenteranno la loro carriera, come sono venute fuori, quali sono stati gli sforzi e quindi vi aspettiamo tutti numerosi per questi eventi. Ottima anche l'iniziativa della consigliera Maria Grazia Gesualdo che ha deciso di organizzare nella mattinata del 25 novembre un corteo coinvolgendo tutte le classi quinte delle scuole primarie che si fileranno per le vie del centro e per le strade del Borgo Antico.